L'ETEXPO Logistics Ecotransport A Verona la fiera su trasporti, logistica, digitalizzazione e servizi alle imprese. Scopri le ultime novità su sviluppo sostenibile, nuove tecnologie, metaverso, filiere strategiche, formazione. Vieni a conoscere le opportunità di lavoro per il tuo futuro. Dal 12 al 15 marzo, Alice ti aspetta a Verona. Trasporti, back shift modale sulle strade italiane. Nel 2023 la circolazione dei mezzi pesanti supera i livelli pre-Covid, più 4% sulle autostrade e più 1% sulla rete Anas. Obiettivi UE sulle emissioni a rischio, necessari maggiori incentivi all'intermodalità. Fisco, sanzioni amministrative più vicine ai target europei. Il governo vara un decreto che le riduce fino a un terzo, allo studio norme più severe per la sicurezza sul lavoro. Napoli, enorme voragine nel centralissimo quartiere del Vomero. Inghiottite due auto, leggermente feriti due automobilisti che erano a bordo. ricoverati due turisti, ospiti di un B&B, invaso dall'acqua per la rottura delle condotte. Stasera su Alice Channel, primo piano con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli. Focus su crisi nel Mar Rosso e impatto dell'ETS marittimo sul sistema economico del paese. Buonasera, è in atto un backshift modale sulle strade italiane. Nel 2023 il traffico di veicoli pesanti ha superato i livelli pre-Covid con un incremento dei volumi del 4% sulle autostrade e dell'1% sulla rete Anas. è quanto emerge dall'ultimo report dell'osservatorio sulla mobilità di passeggeri e merci elaborato dal MIT, oltre alla crescita del traffico su gomma, ad allontanare l'Italia dagli ambiziosi target europei di decarbonizzazione e anche la cronica anzianità del parco circolante. Alla luce di questi dati appare dunque ancora più rilevante la richiesta di Alice di aumentare gli incentivi all'intermodalità. Intanto dal governo arriva una prima risposta pubblicato il decreto direttoriale che disciplina le modalità di erogazione di 25 milioni di euro di contributi pubblici destinati agli acquisti di nuovi camion. Le imprese potranno presentare le loro domande dal 4 al 22 marzo prossimi. Proprio sull'impatto dell'ETS marittimo sul sistema economico del paese si è soffermato anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli intervistato dal direttore di Alice Channel, Roberto D'Antonio nell'ambito di primo piano. Ecco un estratto della puntata in onda questa sera su Alice Channel. Quella dell'ETS è un'ulteriore follia europea che colpisce pesantemente, mi perdonerà, non solo il settore dei trasporti, non solo l'area mediterranea, colpisce l'Italia, punto. Le navi arrivano soprattutto in Italia, non è che vanno in giro per il Mediterraneo, arrivano in Italia perché è il primo approdo verso Suez e indirettamente... Penalizzando porti, penalizzando tutta un'economia. Per cui, italiana. Oggi, per merito, diciamo con una parola un po' forte, ma per merito della scelta forte degli agricoltori, finalmente gli italiani e gli europei si stanno accorgendo di quello che l'Europa con le sue idiozie ha deciso di fare, causando gravi danni all'economia e alla socialità europea. Il conto che disastri naturali e cambiamenti climatici hanno presentato all'Italia supera il valore del PNRR. Dal 1980 al 2022 sono stati bruciati 210 miliardi, di cui 111 per alluvioni, siccità, incendio, ondate di caldo e di freddo, a cui si aggiungono poco meno di 100 miliardi di danni dovuti a terremoti, eruzioni e frane. A fotografare la situazione, il Censys in un recente rapporto, all'interno del quale si certifica come proprio il nostro paese abbia pagato negli ultimi 40 anni un terzo dei danni registrati in tutta Europa. Dall'indagine emerge inoltre che un quarto delle PMI sorge su un territorio a rischio. A pagare il prezzo più alto sono le imprese agricole. Solo nel 2022 sono stati persi circa 900 milioni, con un calo della produzione dell'1,5% dovuto soprattutto alla siccità. Il dissesto idrogeologico resta dunque un significativo problema per il nostro paese. Negli ultimi anni, complici proprio le anomalie climatiche, sono aumentate notevolmente frane e inondazioni nel nostro paese, con esse anche le vittime ai danni economici. Solo nel 2023 le frane hanno causato in Italia 10 vittime e 18 feriti, oltre un miliardo di danni e quasi 1700 sfollati. Sono i dati del rapporto periodico sul rischio posto alla popolazione italiana da frane e da inondazioni, presentati all'Accademia Nazionale degli Incei da Fausto Guzzetti, dell'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ogni anno in Italia le frane provocano vittime e danni diretti per oltre un miliardo di euro, una cifra rilevante, ma, ha sottolineato Guzzetti, si fa poco per limitare i danni delle frane. Dall'opinione pubblica, ma anche da molte amministrazioni, sono considerate emergenze meno rilevanti dei terremoti, degli uragani e delle eruzioni vulcaniche. Eppure le cifre mostrano il contrario. Allargando l'orizzonte temporale, grazie ai dati raccolti sul sito Polaris del CNR, si può osservare che tra il 1973 e il 2022, gli eventi franosi, spesso piccoli, ma non per questo poco pericolosi, hanno provocato 1.087 vittime tra morti e dispersi, oltre 1.400 feriti e oltre 140.000 evacuati e senza tetto, in oltre 2.600 località di 1.541 comuni. Nella memoria collettiva, ha proseguito l'esperto, tornano alla mente solo quattro grandi frane, Vietri sul mare e Maiori nel 1954, Vaillant nel 1963, Stava nel 1985 e Sarno nel 1998. Intanto i paesi UE e l'Europarlamento hanno trovato un accordo provvisorio sulla direttiva che mira a ridurre l'inquinamento atmosferico, puntando ad azzerarlo. Entro il 2050, le nuove norme fissano target più severi al 2030 per diversi inquinanti, tra cui il particolato, il biossido di azoto e il biossido di zolfo. I valori limite annuali dovranno essere più che dimezzati, nel tentativo di ridurre in modo considerevole il numero di morti premature causate dalle polveri sottili, numero che si attesta su livelli allarmanti anche in Italia. L'Italia è il primo paese in Europa per morti attribuibili all'inquinamento atmosferico con circa 80.000 decessi prematuri all'anno. Il riscaldamento degli edifici privati è fra le prime cause, evidenzia la Società Italiana di Medicina Ambientale. Gli effetti diretti dello smog non interessano solo i polmoni, ma diversi apparati e organi. Colpito anche il sistema nervoso centrale, è registrato un aumento della frequenza di ictus, demenza e di diabete, rischi anche per il feto. In pericolo soprattutto i più fragili, ma i bambini sono particolarmente vulnerabili e il loro stato di salute è emblematico degli impatti più ampi dell'inquinamento atmosferico, dice Francesco Forastiere dell'Imperial College of London. Dobbiamo distinguere i possibili effetti acuti determinati da una situazione contingente come quella che stiamo vivendo, caratterizzata dai picchi di questi giorni, spiega Forastiere, da quelli dovuti a una esposizione cronica. Nei periodi di picco a rischio sono le persone più sensibili, come i bambini, gli anziani e le persone con patologie pregresse, come l'asma bronchiale, la bronchite cronica o le malattie cardiovascolari, situazione che porta anche a un aumento dei ricoveri ospedalieri e dei decessi. Apriamo ora la pagina politica. Via libera del Consiglio dei Ministri alla revisione del sistema sanzionatorio tributario. Tra le novità vengono ridotte da un quinto a un terzo, le sanzioni amministrative, avvicinandole ai parametri europei e introducendo un principio di maggiore proporzionalità. Nel corso del CDM si è inoltre tenuta l'informativa del Ministro Marina Calderone sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La Ministra ha evidenziato che nel 2023 nel settore Dile è stato registrato un livello di irregolarità pari al 76%. Allo studio del Governo una misura che prevede l'interdizione dagli appalti da 2 a 5 anni in caso di gravi violazioni o reato, oltre alla sospensione dei benefici fiscali e contributivi per le imprese irregolari. Nelle scorse ore è giunto inoltre il via libera definitivo del Senato al decreto Superbonus che salva i lavori con il 110% certificati entro il 31 dicembre scorso e che prevede tra l'altro aiuti per i redditi bassi. Intanto il Vice Premier Matteo Salvini è al lavoro sulle norme del nuovo codice della strada e ha annunciato una stretta sugli autovelox. Il decreto ministeriale in arrivo dovrebbe prevedere il divieto di installazione dei rilevatori di velocità sulle strade con limite al di sotto dei 50 km all'ora. Gli autovelox, ha spiegato il ministro, dovranno essere omologati a livello nazionale e i sindaci dovranno spiegare perché e li mettono dove e con quale motivazione. In Italia risultano in aumento proprio gli incassi derivanti dalle multe per violazioni del codice della strada. Vediamo i dettagli con il prossimo servizio. Nel 2023 famiglie e privati cittadini hanno pagato 1 miliardo e 535 milioni di euro in multe stradali e comuni, con un aumento del 6,4% sull'anno precedente e del 23,7% sul 2019. Anche al netto dell'inflazione, l'aumento rispetto all'anno pre-covid è del 6,9%. Le sanzioni sono una realtà soprattutto nel centro-nord e crescono nei centri medio-piccoli che registrano aumenti di oltre il 50% sul 2019. La spinta maggiore non pare arrivare dai divieti di sosta, fenomeno ovviamente marginale nei centri più piccoli, per cui i riflettori si spostano in particolare sugli autovelox. L'accusa è sempre la stessa ed è quella rivolta ai piccoli comuni che farebbero cassa con i rilevatori di velocità e inevitabilmente i dati pro capite si impennano quando un controllo è collocato su una strada molto frequentata nel territorio di un piccolo comune. È il caso per esempio dell'autovelox al passo di Giau sulle Dolomiti Ampezzane, la cui distruzione a inizio gennaio ha attirato le attenzioni delle cronache nazionali sul tema. Nelle città maggiori il fenomeno è molto variegato, la classifica degli incassi pro capite è dominata da Firenze. I 198,6 euro pro capite sono in linea con il dato del 2022. Il dato fiorentino è in controtendenza rispetto a quello delle altre grandi metropoli che da Milano a Roma hanno registrato l'anno scorso un arretramento sia rispetto al 2022 sia rispetto al 2019. Bologna con i suoi 81,5 euro pro capite occupa l'undicesimo posto nella classifica dei capoluoghi in termine di incassi per abitante. Nel mezzogiorno la media oscilla tra i 10,3 euro pro capite nelle isole e i 13 euro nel sud continentale, cioè circa tre volte sotto i livelli del centro-nord. È stata formalizzata l'amministrazione straordinaria per l'ex Silva di Taranto, un decreto del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ammesso la procedura con decorrenza immediata nominando Giancarlo Quaranta, commissario straordinario. Dopo mesi di difficili trattative con il colosso del settore, Arcelor Mittal, che detiene il 62% del principale polo siderurgico italiano, l'esecutivo tenta così il rilancio dell'azienda gravata da 700 milioni di debiti. Il Tribunale di Milano dovrà fissare nei prossimi giorni un'udienza per decidere sullo stato di insolvenza di acciaierie di Italia. Parliamo ora di PNRR. Al primo febbraio 2024 il recovery plan europeo è stato realizzato al 38%. Secondo un rapporto della Commissione UE, l'Italia è prima tra i paesi membri per numero di milestone e target per investimenti e riforme realizzati seguita da Spagna e Croazia. Il commissario UE all'economia Paolo Gentiloni ha sottolineato che il Next Generation EU ha il potenziale per aumentare il PIL reale dell'UE dell'1,4% nel 2026 e che l'Italia risulta nella media. E restiamo in ambito europeo con il via libera degli ambasciatori UE al tredicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Si tratta di uno dei più ampi approvati finora e il prossimo venerdì anche gli Stati Uniti annunceranno un nuovo regime di misure nei confronti di Mosca per la morte di Alexei Navalny. Secondo quanto riportato dal Times il leader dell'opposizione russa sarebbe stato ucciso con un pugno al cuore dopo essere stato esposto a lungo a condizioni di congelamento una tecnica utilizzata dagli agenti dell'ex KGB. La guerra in Ucraina sarà poi sabato anche al centro del primo G7 sotto la presidenza italiana in occasione del secondo anniversario dell'inizio dell'aggressione russa previsto anche il collegamento con il presidente ucraino Zelensky. Un inasprimento delle sanzioni contro la Russia va in questa direzione G7 che si riunirà sabato per la prima volta sotto la presidenza italiana nel secondo anniversario della guerra in Ucraina. Si parlerà anche delle crisi Medio Oriente Mar Rosso ma Kiev è il focus all'ordine del giorno e come un anno fa alla riunione in videoconferenza si collegherà per un intervento Zelensky prima del colloquio fra Meloni il leader degli altri sei stati e quelli di Commissione Consiglio UE una discussione che spiegano fonti diplomatiche verterà anche sulla morte di Navarney e la sua interpretazione e si chiuderà con una dichiarazione congiunta mirata a contrastare la falsa narrativa dell'Occidente stanco per gli effetti del conflitto. Per la Premier assicurano i Meloniani è unicamente da condannare la morte in carcere di un uomo colpevole solo di opporsi al regime di Putin e di chiedere libertà e democrazia mentre monta la polemica per le considerazioni di Salvini sul fatto che fare luce sulla fine dell'oppositore russo saranno i medici i giudici la linea del governo viene spiegata e quella espressa dal ministro degli esteri italiani secondo cui se quella morte non è stata provocata direttamente lo è stata in maniera indiretta quanto arriva da Mosca viene quindi liquidato come propaganda incluse le parole al miele di Putin sull'Italia Upac rafforza i collegamenti tra il nord Italia e il porto di Zebrouge in Belgio l'azienda svizzera associata ad Alice incrementerà da 9 a 10 i viaggi round trip offerti ogni settimana fra Novara e lo scalo marittimo belga così come salgono da 5 a 6 le rotazioni settimanali già esistenti con l'interporto di Busto Arsizio inoltre rappresenta un elemento di novità l'avvio di un treno intermodale per il trasporto di container semirimorchi e casse mobili sempre fra Zebrouge e Piacenza era questa l'ultima notizia della giornata noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento a domani buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti